Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Visto che qualche giorno fa ho caricato un video con la mia ragazza dove guardavo il suo mondo privato, il suo server con gli amici Ho pensato bene, me l'avete consigliato anche voi nei commenti Perché non fare vedere a Carly la Big Vanilla, ovvero il mondo con i miei amici dove costruiamo tantissime cose bellissime Visto che lei è completamente ignara di questo posto, non conosce le costruzioni, non guarda i video E sono veramente curioso di vedere la sua reazione e vediamo soprattutto se riuscirà a capire quale è la mia casa Quindi eccoci qua ragazzi, siamo nella Big Vanilla, tu non conosci nulla della Big Vanilla giusto? Perfetto ok, questo qua è il punto di spawn, diciamo il portale del nether Che come puoi ben vedere è una spada gigante che si conficca all'interno del mondo Chi ho fatto questa? Io Che brutta Non è vero, non l'ho fatta io, l'ha fatta Marce e l'ha fatta Bella Faccia No, no, scherzo Ah certo, quindi se l'hanno fatta loro è molto bella Allora, vediamo, dirigiamoci un pochettino verso le prime costruzioni Lui è il Big Ladro, stiamo ricercando tutti quanti il Big Ladro e ancora non riusciamo a trovarlo Dimmi un po' Avete qualche sospetto? I sospetti sono tanti Io personalmente ho il sospetto di Steph e di Marce Poi gli altri, ognuno c'è il proprio Dove vuoi andare più o meno? Cosa è una piccola, quella? Sì, quella è la costruzione di Bella Faccia Io non vedo l'ora di cancellarla dall'esistenza del mondo Ma perché? È carina Perché è tremenda Io la odio È qua al centro piantata Non ci sta a dire nulla La voglio fare esplodere Non vedo l'ora di farla esplodere Ma che cos'è questa? Questa qua è la torre di Sauron Una torre rossa bellissima L'avete fatta voi? Sì, l'ho fatta io con Marce e Bella Faccia Vuoi vederla? Sì, fammi vedere Ok, allora, è una torre gigante Ma non è la più grande purtroppo Perché Marce è un pazzo psicopatico E fa delle torri ancora più grandi Allora, guarda Dimmi un po' Secondo te di chi è questa casa? Guarda, ti faccio vedere Allora Ecco qua, questa è una casa Hobbit Con ovviamente la torre di Sauron Quindi tutto Signori degli Anelli Lo Hobbit Di chi può essere questa casa? Tu sei un amante dei Signori degli Anelli Sì, è vero Quindi di chi può essere, secondo te? Di bella faccia No, è mia No Questa è casa mia Ma è carina Dov'è Gandalf? Non è io Gandalf Vedi che ho il barbone gigante Sono alto 3 metri E sono vecchio Fammi vedere Allora, l'interno in realtà è ancora da modificare Perché l'ho modificata di recente Però guarda, c'è un passaggio segreto Qui vedi Questo non doveva succedere Vabbè, non importa E io se io scendo qua giù Scende prima il manichino Sì, vabbè, il manichino adesso Guarda, lo portiamo su di nuovo Guarda, ok Queste sono le prigioni segrete di Kendal E chi ci metti qua? Ma in realtà ci dovremmo mettere il big ladro Non appena lo troveremo Il fatto è che non abbiamo la minima idea di chi possa essere Quindi giustamente il ladro lo metti in casa tua Vabbè, è sotto però È protetta Vedi che ci sono le sbarre di ferro Ma non c'è un bidet Non c'è un lavandino Ma che bidet Ma quello merita di morire Di marcire in prigione Ma quale bidet è bidet Non c'è niente Quindi per risalire Anzi, ti faccio vedere direttamente La parte più bella secondo me Per risalire poi Spunti direttamente E fate tutto e tu queste? Sì, fate tutto io Tutto da solo tra l'altro No, mi ha aiutato un po' Marche in effetti Però ho fatto quasi tutto solo Così risali su E questa qua è la mia stanza degli incantesimi Assurdo Pure questa ovviamente in stile Hobbit Dove l'entrata in casa tua? È qua Vedi? È tutto collegato Tra l'altro Non so Forse quando uscirà questo video L'avremo già fatta Qui vogliamo creare il magazzino Hobbit Vedi che ho creato una collinetta Poi la apriremo tutta quanta per bene E ci metteremo il magazzino Non so ancora quando uscirà Perché probabilmente questo video uscirà dopo Allora inizialmente era la torre di Bella Faccia Però aveva fatto una torre Allora vedi qualcosa ci avevo preso Qualcosa è di Bella Faccia Sì, però non mi piaceva Lo spazio era di Bella Faccia Poi l'ha regalato a me E abbiamo costruito una torre altissima Gigante Con l'occhio di Sauron Nello sopra Tutto voi l'avete fatta? Sì, l'abbiamo fatta io Marci, Bella Faccia e Loco E di che è stata l'idea? Mia! No, in realtà è stata di un fan Un fan mi ha scritto nei commenti Ma scusa, hai una casa Hobbit? Perché non fai anche la torre di Sauron? Giusto Mi sembra giusto, no? Poi qua abbiamo una nave vichinga Che non c'entra nulla con gli Hobbit Però non importa Questa pure è mia Sì, fatta io E' fatta tu? Io e Bella Faccia Sì, diciamo che io non costruisco nulla da solo Perché non sono capace Non sono bravissimo Ma tu dici che non sei capace poi? Vabbè, perché mi danno una mano Io poi seguo loro Loro mi insegnano un pochettino Ah, è bella, è bella E dentro cosa c'è? Niente Niente È vuota Ho toccato un tasto dolente È un tasto molto dolente È totalmente vuota È meglio non guardarla dentro Poi guarda Qua c'è, indovina di chi ha questa casa? Vediamo che dire Marci No Casa di Marci? No, no, no No, vabbè Allora, Marci mi ha detto che è il costruttore Marci è il costruttore Però devo dire Quindi è possibile che Che questa casa l'ha fatta anche un po' Marci C'è sempre la mano di Marci Sì, sì Marci ha praticamente fatto il 90% della Big Vanilla Cavolo, bravo Non so chi è che c'è dalla Big Vanilla Allora Bella faccia, bella faccia Questa è bella faccia No, no, no Che noia Che noia Che noia, hai indovinato Questa è la casa di che noia Bella La casa con le palafitte sul mare Lei è la regina dei mari La mia non compete per niente con la sua Vabbè, dai Però l'idea è uguale Lei ce l'ha soltanto un po' più bassa Poi c'è anche un magazzino sott'acqua, vedi? Vedi quella torre gigante là sopra? Marci Sì, era abbastanza facile da indovinare in effetti Questa è la torre di Marci Con la mongolfiera di Marci I palloncini di Marci Marci La torre di Marci Marci La casa di Marci Un'altra casa di Marci Marci, ragazzi Marci Vabbè, basta Marci lo cacceremo Dai, auto Lo cacceremo dalla Big Vanilla Perché ha troppe cose Ma lui è il vero architetto quindi Cioè, voi non fate niente È lui che vi costruisce tutto Quell'uomo, poverino È vero È vero, purtroppo è così Questo ponte? Indovina Marci Sì Tutto ciò che vedi che è blu è di Marci Che è figo No, blu È figo Vabbè, ok Va bene, ok Vuoi vedere la palude di Shrek? Allora, questa qua è la palude E vabbè Avete costruito un botto Marci ha costruito un botto Anche questa l'ha fatta Marci, ovviamente Poi guarda, qua ci abbiamo un'altra casa Secondo te di chi è? Aspetta, aspetta Ora ci arriviamo Marci, Marci Tutto Marci No, non è che Marci Non è che Marci c'ha il monopolio di tutto Scusa Qualcosina è anche nostra Vediamo Secondo te di chi è questa casa? Aspetta, allora Bella faccia da quello che so Fa sempre cose un po' immerse nella natura Quindi magari potrebbe essere di bella faccia No No Non ha il suo stile Dunque Tu sei fuori Che noi è fuori Marci è fuori Anche se Marci c'ha praticamente tutto un monopolio di case Favij No Ok Steph No Fere No Baddi 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 C'hai preso È la casa di Baddi È veramente la casa di Baddi Guarda tra l'altro la mia torre che si vede Ma è imponente Ma che potenza Bellissimo Ma è potente Bellissimo Questa sì, è la casa di Baddi Ecco, questa secondo te invece di chi è questa casa? Chi rimane fuori No, questa bella faccia è sicuro Perché? Perché ho detto che è messa nella natura Quindi bella faccia In effetti hai ragione È la casa di bella faccia Bella faccia amico di animali e natura Bella faccia dell'amico della natura Del legno Lui ama il legno È pazzo per il legno E infatti ha fatto una casa all'interno dell'albero Vedi? Questa tra l'altro è stata anche un po' una mia idea Cioè se posso dire Se posso permettermi C'è anche il mio zampino Ma sì È giusto È giusto Fa una piega Vediamo allora Visto che ti ho fatto vedere un bel po' di case Vediamo la casa di fronte è casa mia Questa sarà interessante cercare di capire di chi potrebbe essere Cosa c'è scritto là? No No, non c'è scritto no No Not No, è Nut Si legge Nut Nut Questa qua è la casa particolare Una casa particolare Secondo te di chi potrebbe essere? Chi rimane fuori? Eh c'è un bel po' di gente Steph, Pere E Mark No Ma come faccio a dirlo così? Ci sono gli alberi in mezzo Beh in realtà In realtà c'è un bel C'è qualcosa che dovrebbe fartelo capire C'è un cartello gigante E ti fa capire chi potrebbe essere C'è un igloo È la casa di un pinguino Sbrizer Ma Sbrizer non è un pinguino So cosa hai fatto Sì, questo vabbè è un cartello Non l'ha ancora tolto Vabbè Gliel'avevo messo io tra l'altro No, questa è la casa di Lorenzist Il pinguino Ah, giusto Nut Nut Vedi? Ah, Nut 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 Ah, scusate Questo qua è il residence di Sbrizer Perché non è una casa Sono tipo 35 Non capisco da dove inizia E da dove finisce onestamente Cioè, vedi? Ma è bello È tipo un palazzo Questo è il cortile Siete tutti degli architetti Io non so Ma io no Io non sono per nulla bravo Onestamente Non mi ci metterei Questa casa è stata costruita da Marci Ed è una casa demoniaca enorme Gigante E puoi capire di chi è Perché È una lettera Favij Questa è la casa di Favij Tra l'altro c'è ancora la TNT Cioè, nessuno gliel'ha tolta la TNT E indivina da chi è stata costruita questa casa? Ma, complimenti a Marci A Marci Complimenti a Marci Bene, adesso passiamo invece a un'altra casa Che questa è la villa Di chi? Degli YouTubers Questa è di tutti noi Il mio è il primo piano Sì L'ultimo piano è di Marci Perché L'ha costruita lui Giustamente E quindi lui si merita Ovviamente si merita Si merita l'attico Molto bello Poi Continuando Continuando verso il ponte Andiamo Alla stradina Che ti porterà La State Way to Heaven Che ti porta Al Colosseo L'arena da combattimento Come ti ho fatto un Colosseo Guardate L'imperatore Eh, quindi questa è l'arena da combattimento Poi passiamo al castello Che è ancora in fase di costruzione A dire la verità Sì Allora Questo qua No, questo è il loco Marci e bella faccia Questo è il cancello Questo è il cancello Si apre Si chiude E questo qua è il castello Che ancora è un work in progress Non è ancora finito Ci vorrà un bel po' Prima di finirlo Sinceramente È molto Molto grande È ambizioso Bellissimo Ah Questo credo di poterlo già fare vedere Perché l'abbiamo costruito una settimana fa E credo sia già uscito il video E non è ancora completo Da quel che mi sembra di capire Ma questo qua è il municipio Il tribunale La bandiera Che è la cosa più bella Secondo me È una mia idea L'ho fatta io Sì Ti ha aiutato Marci No, 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 no La bandiera l'ho fatta io Però Io in questa costruzione Ho fatto la bandiera E le colonne E basta Tutto il resto Ho fatto Marci Loco E Buddy Marci Spero ragazzi Di non aver spoilerato una costruzione Ma tecnicamente questo video Dovrebbe uscire Tra un bel po' E dovrebbe essere già finita Questa invece È la torre di Nico Che personalmente È una delle mie torri preferite È semplice Ma è bellissima E quella è casa sua La casa sulla montagna Ti piace? Sì, è bella Vogliamo fare un bel giretto Sulla casa di Nico? Vai, vai, vai Allora Qua ci sono le sue pecorelle colorate Poi abbiamo Beh, devo dire che questa casa È veramente molto bella C'è tutta la stalla qui Con gli animali La fattoria La farm Anche se La tua è molto più bella La tua serra La mia serra La tua serra è stupenda Questa invece è casa sua Vedi? Molto bellina Anche il tetto particolare Indovina chi l'ha aiutato a costruirla Marci, marci 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 Tu Cioè questo mondo Si dovrebbe chiamare Big Marci Big Marci Facciamoci una bella dormita Perché ci aspetta ancora Una giornata importante Ragazzi Se non avete ancora lasciato Mi piace a questo video Beh, che state aspettando? Eh? Forza Mi piace Non costa niente Questa qua invece È la casa moderna di Xiao Bella? Bella Ti piace? Perché c'è una tessa di Aerobrain? Vabbè Non chiediamo Noi non chiediamo E ora ti faccio vedere La casa di Loco Per andare a casa di Loco Devi scendere nelle segrete Più profonde della terra E devi utilizzare il ghiaccio In pratica Non so se lo sai Però se prendi una barchetta Con il ghiaccio Vai alla velocità della luce Guarda Che è sta faccia? Non lo sapevi? Il metodo più veloce per correre È con la barchetta e col ghiaccio Cioè in pratica Noi stiamo facendo adesso Migliaia di chilometri E ci siamo fermati Non aveva idea ragazzi È un po' desabilizzata E questa invece è la bellissima Secondo me è una delle mie preferite In assoluto Casa di Loco Il pazzo della Redstone Cioè quindi scusami scusami Ci si arriva solo via ghiaccio Sì vabbè ci puoi arrivare anche a piedi Però ci vuole veramente tanto tanto tempo Ma è una genialata Sì e qua sta rifacendo Tutta quanta una montagna Cioè in pratica Lui ha buttato giù Una montagna intera Per fare il suo magazzino Ma è assurdo Sì la gente sta male In questo server Sono tutti pazzi 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 Ma siete tutti gli architetti Però devo dire Questa casa è una delle mie preferite C'è il tetto e tutto Mi piace veramente molto Bello bello Beh diciamolo Qual è la tua casa preferita Marci E io Anche tu Loco è bellissima Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se così è stato Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao